Da Azione Salute sono arrivate queste nuovissime carrozzie elettriche di ultima generazione e adesso vi faccio vedere alcune delle caratteristiche principali. La prima, come avete visto, la chiusura e l'apertura della carrozzina completamente automatica, addirittura controllabile tramite un'applicazione sul proprio telefono. Inoltre è possibile sempre controllare dal proprio telefono il movimento della carrozzina. Un'altra delle caratteristiche principali di queste sedie è la ruota omnidirezionale. È una ruota molto particolare perché è composta da questi elementi che permettono di muoversi in completa fluidità sullo stesso asse a destra e sinistra all'interno dello spazio dove viene utilizzata. Particolarmente utile quando si utilizza in uno spazio ristretto. Come potete vedere hanno un design elegante e materiali di altissima qualità. In questo modello abbiamo una torcia col sensore touch, ricarica USB e USB-C, un display che va a mostrare tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Tra l'altro questi due moduli sono intercambiabili per chi vuole utilizzare il joystick sulla sinistra. Dietro abbiamo uno zaino portadocumenti e portoggetti molto bello e molto comodo. Sotto un ulteriore cestino con portata massima di 5 kg e davanti abbiamo delle sospensioni che vanno ad aumentare notevolmente il comfort durante la guida. Il modello alla mia destra ha un'apertura e una chiusura automatiche mentre questo modello è a manuali ma vi faccio subito vedere quanto è semplice andare a eseguire questi movimenti. Basterà eseguire un movimento accompagnatorio per la chiusura e poi per andare ad aprirla ancora più semplice. Oddio dove stai andando? Allora per altre informazioni contattateci.